Come compilare l'autocertificazione di Natale? Il decreto natale che entrerà in vigore il 24 dicembre e durerà fino al 6 gennaio 2021 prevede l'Italia in fascia rossa, quindi con limitazioni e restrizioni di spostamenti praticamente per tutti. Ritorno all'autocertificazione che già ben conosciamo per averla vissuta durante il primo lockdown. Andiamo a vedere come va compilata e soprattutto chi dovrà compilarla nei giorni di fascia rossa per tutti gli spostamenti bisognerà portare con sé l'autocertificazione. Nella prima parte i dati anagrafici che dovremo andare a compilare, nella seconda parte dichiariamo sotto la nostra responsabilità di essere a conoscenza delle misure restrittive e soprattutto dovremo andare a specificare quali sono i motivi degli spostamenti. Ricordiamo che possono essere tre comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e poi c'è una terza opzione che però andrà specificata. Infine in fondo andrà inserito anche qui il motivo dello spostamento ma soprattutto da dove è iniziato lo spostamento e qual è la destinazione. Qui è importante un passaggio, non va inserito per i motivi legati alla privacy a casa magari di chi stiamo andando ma semplicemente l'indirizzo quindi la destinazione e poi in fondo c'è un'ultima opzione in merito allo spostamento si possono inserire dei motivi che appunto riguardano questo in fondo data ora e luogo del controllo con la firma dell'operatore di polizia. Questa è l'autocertificazione che va compilata nei giorni di Natale per ulteriori notizie anche sull'autocertificazione rimandiamo al portale www.tecnicadellascuola.it e al canale YouTube.